Le immagini di Federico ci portano anche un po' alla conclusione di questo incontro. Chiudiamo andando a parlare poi appunto dei luoghi nelle quali i rifugiati, i migranti sono arrivati a destinazione, quelli che ce l'hanno fatta, quelli che sono riusciti a oltrepassare le frontiere di questa Europa fortezza, quelli che sono riusciti ad attraversare il mal mediterraneo senza perdere la vita. Sebastiano Canetta, anche lui un giornalista freelance collaboratore del Manifesto, è da poco rientrato da Berlino. Si parla spesso dell'accoglienza tedesca come la migliore accoglienza, poi in realtà anche là vediamo delle ucce e l'ombre. Se dovessimo parlare di quella italiana credo che servirebbe un altro appuntamento come questo per approfondire come non funziona il sistema d'accoglienza da tutti i punti di vista, però visto che Sebastiano è appena rientrato a Berlino, ci interessa un po' capire come stanno vivendo appunto le persone accolte in questo momento a Berlino, cioè qual è la situazione? Sì, innanzitutto fammi dire che sono fiero di avere colleghi così che ancora sono in grado di emozionarsi e indignarsi di fronte a scene di questo tipo. Concludo la breve parentesi, circa due settimane fa un collega di Die Zeit di fronte a un controllo piuttosto brusco all'interno di un treno di un controllore bavarese che stava facendo scendere un migrante che aveva il biglietto del treno, stava prendendo un aero, aveva entrambi i documenti di viaggio ma non li trovava. Di fronte a proprio questo trattamento razzista direi, ha preso l'abbonamento delle Deutsche Bahn, l'ha bruciato, l'ha filmato e l'ha mandato alle ferrovie tedesche. Chiuso la parentesi perché poi non sempre si riesce a raccontare e rimanere anche al di fuori. Ecco, si parlava di Berlino, ma più in generale di Germania e come dicevi tu ci sono luce e ombre, è un po' come un disco, cioè un lato A e un lato B. Io partirei dal lato B che è molto preoccupante. Nell'ultimo anno, anno e mezzo, in Germania è dato a fuoco un centro rifugiati al giorno, c'è una media veramente spaventosa. Quasi tutti in Sassonia, quindi nell'est, ma anche Baviera, Baden-Württemberg, Sachsen-Hanelts, quindi questo è un aspetto di cui si parla poco, ogni tanto fa notizia ma non c'è una vera attenzione, non c'è una vera attenzione nemmeno negli organi tedeschi, c'è l'Ufficio per la protezione della Costituzione che è l'equivalente al controspionaggio, fa poco o nulla da questo punto di vista. E l'altro lato B, che è quello che accennava anche prima Pio De Miglia, è questo accordo vergognoso con la Turchia di Erdogan, cioè la politica delle porte aperte di Angela Merkel si incardina sui muri di Erdogan, cioè queste belle porte aperte sono incardinate sui muri. Angela Merkel può non mettere un limite, il suo cavallo di battaglia politico, all'ingresso dei migranti perché lo fanno altri. Si tratta essenzialmente di fare il lavoro sporco, che poi non lo fa nemmeno lei, ma lo fa il ministro degli esteri che è socialdemocratico, Frank-Walter Steinmeier, e il ministro, il vice cancelliere Sigmar Gabriel che è anche il ministro dell'economia e quindi quello che vende gli armamenti made in Germany a questi paesi. Insomma tutto questo continua. Il lato A è che di fronte a un'impreparazione totale, devo dire anche sorprendente per l'idea che noi ci facciamo ai tedeschi, ma la Germania comunque è un paese ben diverso dalla mitologia, all'inizio dell'emergenza i tedeschi sono assolutamente impreparati. saltano la burocrazia, ci sono code africane di fronte agli uffici, ci sono accampamenti a un chilometro e mezzo dalla cancelleria e quindi viene assolutamente sottovalutato il problema. Il vantaggio è che la reattività tedesca è un po' più rapida di quella di altri paesi, per cui di fronte a uno smarrimento iniziale, soprattutto devo dire grazie, è duro da dire ma lo devo dire, grazie alla cancelliera Angela Merkel, viene organizzato un sistema di accoglienza modulare e poi vedremo anche quando partiranno le immagini in maniera molto diversa, ma che comincia piano piano a funzionare. La prima mossa, e si capisce anche come forse può essere risolta questa emergenza ipocale, è buttare un pacco di soldi, cioè mettere a disposizione miliardi. Alla fine di quest'anno la Germania spenderà 50 miliardi di euro, nel 2020 saranno 93,7, giusto per fare un conto in manovre finanziarie italiane o in altre opere pubbliche parliamo di una ventina di mose o una ventina di metro C, giusto per farci un'idea. Le immagini che state vedendo, ecco queste sono le due, è una piccola spiegolatura del reportage che abbiamo fatto insieme a Ernesto Milanese, le immagini peraltro sono sue. Questo che vedete è l'aeroporto di Tempelhof, quindi contiene circa 1500 migranti, era il vecchio aeroporto dei nazisti e quello utilizzato nel ponte aereo e questa è stata la prima sistemazione di massa a Berlino. Qui ci sono una trentina di nazionalità e l'accesso è regolato da dei badge, nessuno può entrare se non ha un appuntamento e anche noi che ci abbiamo provato, devo dire che quando i tedeschi fanno le reti non le superi generalmente. Anche qui però tutti godono di un minimo, come dire, di un argent de poche, quindi hanno 300 euro più o meno, sono dotati di istruzioni nella loro lingua e hanno anche una carta che gli permette di cercare casa con la garanzia del land di Berlino. Queste altre immagini che state vedendo invece c'è un'altra soluzione, si chiamano Containerdorf, questo viene fatto a Berlino Est, sono dei container colorati, posati e nonostante il nome, perché non suona bene il villaggio dei container, devo dire che è una soluzione più che dignitosa. Noi abbiamo fatto una visita a sorpresa, quindi non ci attendevano assolutamente, ci hanno fatto aspettare un po' perché c'erano dei casi di scarlattina, quindi abbiamo fatto, come dire, un po' di anticamera e abbiamo parlato con queste persone che si trovano obiettivamente bene, fanno i corsi di tedesco, ci sono gli asili, ci sono dei bagni, come vedete, piccoli ma dignitose, c'è l'officina, la ciclofficina e soprattutto c'è, come dire, una solidarietà di popolo e dico di popolo perché questo è Berlino Est, questa via si chiama Via Salvador Allende e è fatta di palazzoni, quindi di categorie anche abbastanza disagiate, ma una solidarietà che in Italia nemmeno ci sogniamo. Addirittura le squadre di calcio, la squadra di Serie B e la squadra dell'Est, la FC Union, regala giochi, ha dedicato una parte del fan club direttamente ai migranti e c'è comunque una connessione con la città, diciamo, da questo punto di vista. Ecco, quindi questi sono principalmente i due lati. Devo dire che poi, siccome questo non basta, anche se ne faranno circa una quindicina di queste strutture che voi vedete un po' dalle immagini, il land di Berlino, perché Berlino è anche uno stato, si è messo a cercare appartamenti come fa uno studente fuori sede, cioè annunci requisendo palestre, requisendo degli alloggi vuoti e devo dire che una buona parte di berlinesi ha accolto a casa loro circa un migliaio di persone. Tenete conto che più o meno siamo sulle 35.000 persone attualmente a Berlino e dopo la chiusura della rotta balcanica c'è un calo notevole di siriani mentre gli afghani continuano, anzi sono addirittura in aumento. Ecco, questo diciamo in linea di massima. Naturalmente per Angela Merkel è anche un problema politico perché tiene il punto perdendo voti, cioè è assolutamente impopolare la sua politica da questo punto di vista, le crea problemi con il suo alleato principale, la CSU bavarese, che invece vorrebbe chiudere le frontiere sia perché loro sono, come dire, hanno, sono nella zona di frontiera, ma devo dire che la cancelliera da questo punto di vista tiene il punto e arriva, tenete conto che insomma è stata la figlia di un pastore protestante, formazione DDR e leader dell'Europa secolarizzata, tiene il punto, scusate la ripetizione, al punto che l'anno scorso pronuncia una frase che secondo me è più storica di quella di Kennedy, dice l'Islam appartiene alla Germania, provocando anche insomma non pochi contraccolpi, e tiene il punto anche quando succedono i fatti di Colonia, e qui concludo, ma non so se vi ricordate insomma un carnevale di Colonia finito non proprio bene, che è anche un tentativo, come dire, è una mossa politica contro la willkommen culture che lei appoggia, peraltro con delle chiavi di lettura singolari, perché se è abbastanza normale che i populisti tedeschi, c'è questo nuovo partito che si chiama Alternative for Deutschland, di destra, destra con connessione anche nazifascista, adduceva, come dire, ai problemi di Colonia un'origine tribale, in Italia esattamente la stessa tesi che ha sostenuto il direttore di un importante quotidiano torinese senza che ci fossero state grosse indignazioni. Ecco, questo è il massimo, se poi potrei andare avanti per ore, ma dimmi tu insomma se... Comunque, multiforme, ecco, diciamo, quando si parla di Germania non dimentichiamo che è una Repubblica federale, esiste ancora un muro nella testa della gente, l'est e l'ovest sono abbastanza, come dire, sono ancora separati. Ecco, ogni tanto fanno, scusate la parola, delle cazzate anche loro, nel senso che in un paese di 140 abitanti mettono 350 migranti, ecco, a quel punto non è più questione di, come dire, religione, colore della pelle, è proprio una questione di impatto in paesi che sono obiettivamente piccolissimi, spesso all'est, spesso con un livello di disoccupazione pazzesca. Scusa, concludo perché con tutte le ipocrisie del caso per la prima volta la Repubblica Federale ha approvato una legge sull'integrazione, quindi si tenta di dare anche come dire, un cappello giuridico con diritti e doveri, devo dire più doveri che diritti come è tipico in Germania, però si tenta di risolvere il problema anche dal punto di vista giuridico. Grazie.